Sarebbe un cittadino rumeno di 32 anni il responsabile delle aggressioni subite nei giorni scorsi da due donne a Bologna e Ferrara. L'uomo, ripreso dalle telecamere della stazione di Bologna e fermato per un controllo, è risultato indagato per violenza sessuale e rapina aggravata commessa il 27 dicembre nella stazione di Ferrara ai danni di una cittadina italiana. Le modalità dell'aggressione sarebbero simili a quelle della violenza subita da una cittadina russa l'11 dicembre nella stazione di Bologna e le caratteristiche fisiche sarebbero compatibili con l'autore di entrambi gli episodi. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Bologna e a suo carico è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.